Sì, dunque questa sera è giunto il momento di fare gli auguri a un po' di persone, alla signorina Barbara. Al mister Pancione Walter e al mister Geppo. Tanti auguri di buon compleanno a tutti e te. E poi manca Silvia anche in questo ruolo. Vai! Grazie a tutti. 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 , , a tutti. 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 , 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 ,, ,, , , , ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501